Presso la sala conferenze del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, profili attuativi della riforma della giustizia penale, ossia è stato fatto il punto sulla legge 103 del 2017, il punto sulla riforma Orlando a più di un anno dall'entrata in vigore. Nicola Trigiani, professore di diritto processuale penale nell'Università di Bari. Una legge complessa che è intervenuta su molteplici aspetti del codice di procedura penale e anche del codice penale, con un filo rosso che collega tutti gli interventi, cioè quello di una maggiore razionalizzazione e semplificazione del processo penale. Assieme ad altri interlocutori e alla moderazione da parte del capo di redazione Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, sono stati approfonditi vari aspetti, dalle nuove disposizioni in materia di prescrizione, all'estinzione del reato per condotte riparatorie, fino alla nuova struttura della motivazione della sentenza e la riforma delle impugnazioni, gli epiloghi delle indagini preliminari e il procedimento di archiviazione, mentre invece il professor Trigiani ha parlato delle intercettazioni tramite captatore informatico. C'è la possibilità per la Polizia Giudiziaria di inoculare quello che è stato definito un virus di Stato, quindi un software che si installa all'interno di uno smartphone o di un tablet, quindi un dispositivo portatile, e che consente alla Polizia Giudiziaria da remoto di poter, tra le altre cose, attivare il microfono e consentire quindi un'intercettazione ambientale. Grazie a tutti!